L'ultimo appuntamento con la rassegna Cultura Miamo Brindisi Creativa 2012 va in scena al nuovo Teatro Verdi di Brindisi con lo spettacolo teatrale Gli Uccelli di Aristofane. Sul palco, applaudita dal pubblico presente, una compagnia di ragazzi di età compresa fra i 14 e i 20 anni che nel periodo di luglio e agosto scorso hanno preso parte allo Space for Young Art, lo spazio riservato alla formazione di attori e operatori dello spettacolo, iniziativa rientrante nell'ambito degli eventi del cartellone promosso dal comune di Brindisi e realizzato da Motumus e dal quale è nata quindi una vera e propria compagnia formata da giovani brindisini. La rappresentazione teatrale, oltre che essere una prova di recitazione generale per i ragazzi che hanno preso parte alla realizzazione della stessa, partendo dal testo di Aristofane, ha offerto degli importanti spunti di riflessione sul tema della legalità, dell'etica civile e della politica di una comunità. Spunti che hanno coinvolto gli stessi attori e che hanno rivolto anche agli spettatori delle argomentazioni importanti sulle quali porsi degli interrogativi fondamentali che vadano quindi al di là dei messaggi da comunicare o del semplice intrattenimento. Ragazzo, che chiami ragazzo in pupa, marchiamolo con il suo pezzo sul posto, da dentro ci vediamo. Cucù! 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 Ci vediamo! Ci vediamo, va troppo bene! Che bello strano! Ah, con il cacciatore! Cacciatore? No, no! Possiamo stregare! Luzzi, vai in inferno! Diceli, vai in inferno! C'è l'inferno, c'è l'inferno! C'è l'inferno! C'è l'inferno! C'è l'inferno!